No, no, no. buongiorno signora si è qua Gerardo un po' il sorriso dai che la mangiamo se riusci ciao Giulia hai finito? ciao che non è un anno buonasera buonasera ciao 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 ma ria un po' col mondo piglia un po' sanda agata offre il cuore lui va lui 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 ma perché perché vi quanto stiamo da una la febbra che signora stai giocando ci stai divertendo ti raccomando sì ma se poi la mamma di francesco aveva detto che i certi li portavamo i certi li lasciavamo vado a comprare il prosciutto vuoi sì 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 va bene ragazzi io voglio quello cotto quello rosa ciao ciao Grazie a tutti.